ciao ragazzi come va? ho visto i vostri video che devo dire mi sono piaciuto un sacco allora mi sono detto ma mi tirate dentro anche a me posso fare un po di personaggi ora vai sono un po in fissa con Joker magari posso fare anche Joker no? che dite? tipo mentre si trucca una roba del gene tipo smile through your heart is shining smile even though it's freaking when there are clouds in the sky eh? che dite? figo no? bello bello dai dai spensa che ti spassa perfetto con noi vediamo un po' oh ok ti chiamiamo noi allora aspetta con noi grandi sempre grandi ciao smile through your heart is shining smile even though it's freaking